Siamo in piazza perché c'è una questione da mettere in chiaro con la classe studentesca imperiese e il fatto che al momento c'è una crisi nel mondo della scuola che trascende dalle sue falle strutturali e quindi da quei problemi di mancanza di mezzi che riguardano i casi delle singole scuole. Noi crediamo che ci sia una crisi di tutto il mondo scolastico, non imputtabile al corpo studentesco né corpo insegnanti né i presidi, ma a un'amministrazione fallimentare e a uno smantellamento dello Stato e dei governi. Cosa chiedete dunque? Cosa chiedete voi al governo diciamo? Noi chiediamo principalmente un'equità che è un'integrazione che possiamo sviluppare solamente portando avanti un discorso di classe studentesca e di corpo studente unito e quindi portare avanti un tema, l'integrazione degli immigrati all'interno delle nostre scuole che al momento è fondamentale anche per la situazione di sfacelo alla quale sono sottoposti e per il macello al quale vanno incontro classi numerose e quant'altro.